Il primo tempo è abbastanza equilibrata, nel secondo tempo abbiamo subito gol e abbiamo sprecato il possibile. Quando si spreca così tanto e si prende un gol evitabile quasi ogni domenica, poi diventa un problema fare dei punti. Questa è poi la verità. Sbagliati oggi non sono ammissibili, non sono normali. Capitare uno o una partita, ma due o tre occasioni a un metro o a un metro o quattro occasioni davanti a due per due col portiere, credo che capiti un po' più volte. Però se non abbiamo fatto gol è giusto perdere. Mister, ma che minuto sta passando la squadra tua? Tu hai in polsi della situazione di tutta la settimana? La partita non sembra che rimanga in compiuto. C'è la volontà di imparare, ma sempre a un metro. Eh sì, come poi ho preso i miei gol. Manca sempre qualcosa per farle nostre. Esattamente nelle ultime mezzo, tante volte quest'anno, manca convinzione, cattiverie in alcune situazioni. Sì in fase di pensiero, perché abbiamo preso un gol assurdo, assurdo in palla. La palla va sempre agli avversari e il contrario, quando dobbiamo fare gol noi, palle limpide pulite non lo facciamo. Quindi lì è una mancanza nostra, poco da fare. La squadra comunque ha giocato, la partita l'ha fatta, però già nel primo tempo, anche se è stato equilibrato, comunque ha fatto la partita, ha cercato il primo minuto. Il secondo, forse dopo il gol, comunque li abbiamo messi là e meritavamo sicuramente qualcosa di più. Però se non segni questi gol, ripeto, è giusto anche perdere. Grazie.